buongiorno a tutti oggi siamo a lugano per mostrarvi questo spazio dedicato ad uffici con una superficie totale di 75 metri quadrati entrando all'interno di questi uffici come potete vedere veniamo subito accolti da questo spazio molto ampio e immediatamente a destra abbiamo la prima area per un potenziale primo ufficio come potete notare gli ambienti sono molto luminosi e molto ampi proseguendo come potete vedere possiamo accedere al secondo ufficio particolarità di questo ambiente è che ha l'accesso sui due balconcini proseguiamo in quest'area troviamo il bagno di servizio un posto di specchiera lavabo e pc e in conclusione abbiamo il terzo ufficio come vi avevo detto prima questo ufficio gode di questi balconcini diciamo che è un'esclusiva solo di questo spazio se vi è piaciuto questo ufficio e volete avere maggiori informazioni contattateci al 00 41 91 921 24 28 ti affitto